Però prima di dare il via ai nostri lavori io devo cedere la parola a un rappresentante del tavolo Stop Precarietà che mi ha chiesto di intervenire in apertura di questo incontro. Allora gli cederei la parola. Sono qua. Il microfono è qua. No, sono qua. Ecco, grazie della disponibilità. Io vi ruberò solo alcuni minuti del vostro tempo perché vorrei invitare tutti voi a... Lei deve farsi riconoscere perché se non si passa direttamente dalla precarietà all'invisibilità. Dalla precarietà all'invisibilità, ma è così. Perfetto, bravo. Il precario è invisibile. Dicevo, vi rubo qualche minuto del vostro tempo per invitarvi a prendere il volantino che abbiamo consegnato all'entrata, leggerlo attentamente e riflettere un po' su quello che abbiamo scritto. Noi siamo il tavolo Stop Precarietà che raggruppa una serie di movimenti dal sindacato a rifondazione, a ATAC, a tutti quelli che hanno a cuore la lotta alla precarietà. Abbiamo voluto utilizzare questo momento, anche per la presenza di Marchionne, per chiedere una cosa di fondo. Com'è possibile innanzitutto parlare di futuro quando il nostro lavoro, il lavoro in Italia, la produttività, questo mercato, chiede il sacrificio di 1300 lavoratori all'anno. significa che quattro cittadini, quattro lavoratori escono la mattina di casa e non rientrano più, significa che quattro famiglie ogni sera non vedono rientrare i propri cari dal lavoro. Io credo che questa è una cosa inaccettabile quando si parla di mercato, è un sacrificio che non ha senso, è un sacrificio che deve finire. Noi diciamo quale democrazia si può parlare nel momento in cui i lavoratori, l'80% sono assunti con contratto a termine, sono precari, non vedono un loro futuro, non hanno la possibilità di costruirsi un futuro, una famiglia perché il loro lavoro è precario, è volatile. oggi c'è, domani non si sa. Riparto anche dal fatto che oggi la precarietà non è solo una questione di salario, di reddito, i quali hanno i redditi più bassi, per il fatto che non puoi fare un mutuo o lo fai a tassi esagitati, non puoi come si dice costruirti il tuo futuro, ma anche per il fatto che oggi la precarietà noi riteniamo sia la causa principale delle morti sul lavoro. Infatti io penso che nessuno, non serve come si dice fare l'università o avere la laurea per capire che se si butta dal quinto piano è facile morire, però oggi succede questo, lavoratori che lavorano in altezza senza imbragatura, senza le condizioni di sicurezza, ognuno sa che se si toglie magari o non si utilizzano tutti gli strumenti per quanto riguarda la sicurezza ci si può rimanere sotto la pressa e purtroppo questo succede, succede perché se non accetti determinate condizioni il tuo posto di lavoro domani non ci sarà più, alla fine del tuo contratto non vieni confermato, queste sono le cause delle infortunie e delle morte sul lavoro, che oggi non riguardano solo i lavoratori, ma riguarda anche qualche impresa, qualche azienda che costretta e strangolata dai subappalti, magari anche lei opta per ridurre i costi rinunciando all'intervento e all'investimento sulla sicurezza e quello che è grave è che oggi abbiamo un'ambiguità da parte delle aziende, in modo particolare da Confindustria, che dice noi siamo per la sicurezza, poi chiede di modificare la legge che qualche regola sulla sicurezza vuole introdurre, chiede che a farsi carico della sicurezza non siano le imprese ma sia lo Stato, cioè sia sostanzialmente quei lavoratori che oggi pagano con il lavoro e spesso con la vita, la produttività e la ricchezza di questi padroni, perché così io li chiamo, allora io credo, quale futuro è possibile in questa situazione, quale democrazia in questo mercato? Io credo che c'è un'incompatibilità tra un futuro di chi oggi specula, di chi oggi non si può investire in innovazione, in ricerca, fa solo speculazione di carattere finanziario, oggi sono le finanze e le banche che hanno costruito una specie di socialismo, perché i derivati queste cose qua ci sono stati interventi e grossi finanziamenti, come si dice, alle banche mentre oggi il lavoro non trova finanziamenti né da parte delle aziende né da parte dell'ente pubblico. Chiudo dicendo e invitando il Presidente della Giunta dell'Ai a fare in modo che il prossimo anno dentro questo festival ci sia più spazio per il lavoro, per gli infortuni, per quelli che in questo mercato per fare questa nostra richiesta spesso muoiono e ci rimettono la vita. Vi ringrazio. Noi la ringraziamo per questo suo intervento che ha toccato un tema drammatico che riguarda le morti sul lavoro, per il quale c'è stata un'attenzione da parte del governo, delle imprese dell'opinione pubblica, che è un tema che non va mai tralasciato ed è giusto quello che lei dice che possa avere anche uno spazio adeguato nel programma del festival e ne teremo certamente conto. Il tema della precarietà che lei ha sollevato all'inizio, ci sarebbe da discutere se la precarietà è causa degli incidenti sul lavoro, ovviamente io credo che maggior parte delle cause sia rispetto al lavoro nero, evidentemente che è una delle fonti attraverso le quali non si applicano poi delle normative sulla sicurezza del lavoro. Però il tema della precarietà che è stato sollevato da questo intervento, lo ringraziamo ancora, può far parte della prima domanda che rivolgiamo questa sera a Sergio Marchione, amministratore delegato della Fiat, che ci fa l'onore di chiudere idealmente questo festival, questa terza edizione del festival dell'economia di Trento. Ecco, il tema della precarietà, del lavoro dei giovani, della necessaria flessibilità che vogliono le imprese, ma spesse volte questi contratti a termine si trasformano in contratti a tempo indeterminato, insomma, qui viene anche una forma di accusa che i giovani sono trattati male, il governatore della Manca d'Italia diceva ieri i giovani in questo paese sono mortificati, c'è troppa precarietà nel nostro sistema? Guardi, la domanda è complessa, credo che i commenti del governatore Draghi ieri sui giovani erano commenti con uno spazio molto più largo, che ha a che fare con il sistema di educazione di questi ragazzi, le opportunità che poi vengono offerte a loro, ma andando avanti. Il problema, per rispondere ai commenti fatti sulla precarietà, è un problema che ovviamente noi capiamo, lo capiamo bene, stiamo chiudendo oggi il quarto anniversario del mio arrivo in FIAT. È esattamente quattro anni fa quando sono arrivati i discorsi di assunzioni di giovani o di assunzioni di persone nella struttura della FIAT erano completamente inconcepibili. L'anno scorso abbiamo chiuso l'anno avendo assunto 6.400 persone soltanto in Italia, 30.000 in tutto il mondo, abbiamo convertito 2.000 precari in contratti a tempo indeterminato, quindi stiamo parlando di una FIAT che è completamente diversa, che si sta comportando oggi, credo, in linea con le aspettative di quello che è stato detto prima. Detto sì questo, il problema dell'impegno sociale dell'industria per quanto riguarda la precarietà è un discorso estremamente complesso, ha a che fare con un discorso che deve essere fatto con tutte le parti sociali, incluso il governo. Io ho detto apertamente che l'impegno nostro come la più grande azienda industriale italiana è quella di saper gestire le conseguenze del mercato libero. Io continuo a ripetere che non sono in una minima posizione né di controllare la velocità nello sviluppo del mercato libero, quindi lo accetto come un dato di fatto, cerco di gestire l'azienda in una maniera che dà all'azienda la capacità di competere. È totalmente prevedibile che ci siano delle ricadute su alcuni dei nostri, totalmente dovuto al comportamento del mercato. Se noi guardiamo il mercato americano, torniamoci un attimo da l'Italia, se guardiamo il mercato americano dell'auto, vediamo cosa è successo ai cosiddetti tre grandi dell'auto americana, è un problema che è nato più di venti anni fa strutturalmente, che non è stato mai curato alla radice e adesso la maggior parte di queste aziende si trovano in un mercato dove il prezzo della benzina è arrivato a 4,50 al gallone americano e all'anno una gamma di prodotti che è totalmente non adatta alle richieste del mercato. Quelle condizioni, scelte sbagliate del passato, strategiche, conseguenze del movimento del petrolio inaspettato, vanno a creare degli impatti enormi sulla domanda del prodotto e parlare di proteggere la massa degli operai da quel livello di precarietà è completamente impossibile. Quindi o creiamo le strutture sociali per cercare di assorbire le conseguenze di questa flessibilità e quindi creiamo una continuità nel sistema lavorativo attraverso l'impegno nostro di sindacati, del governo e creiamo un'infrastruttura per gestirla, da reclamare soltanto e insistere che l'industria si assuma le responsabilità delle conseguenze del funzionamento del mercato libero sulla precarietà dei lavoratori, per me non è un discorso che va molto avanti. Cioè va protetto di più il lavoratore del posto di lavoro? Va protetto il lavoratore e quindi questo si ricollega anche al discorso sugli infortuni che condivido con chi ha parlato prima che sono cose totalmente non necessarie. Lo posso dire da esperienze personali che abbiamo avuto in FIA negli scorsi mesi, dove abbiamo avuto degli incidenti totalmente inaspettati, alcuni di questi, anzi la maggior parte di questi qua erano dovuti semplicemente al non rispetto delle regole che esistono nell'azienda per quanto riguarda la sicurezza industriale. E quindi non voglio dare colpa a nessuno perché le conseguenze sono state già totalmente negative, ma l'impegno nostro è quello di continuare questo processo di educazione dei nostri per fargli rispettare le regole che già esistono nel sistema. La maggior parte di questi incidenti qua possono essere eliminati se uno rimane fedele a quella struttura di regole e di sistemi che abbiamo messo in FIA. Senta dottor Macchione, lei è stato precario nella sua carriera lavorativa? Se non ricordavo? No. Data bene, insomma, da questo punto di vista. No, le ho donne una risposta, forse un po' troppo affettata. Io sono cresciuto in Nord America, quindi in Nord America tutti per definizione sono precari. Tutti. Io non avevo nessun contratto di lavoro che mi ha protetto durante la mia carriera. 56 anni non ho mai avuto, e non credo che ce l'abbia nemmeno adesso, lo bisogna domandare in un legale italiano, ma credo che l'amministratore delegato non abbia assolutamente niente, ma è detto che sono di fuori delle regole, quindi... Beh, questo naturalmente fa parte del suo ruolo. Entriamo nel tema di questa serata che naturalmente ha come titolo mercato e democrazia, insomma, e quindi vorrei chiedere alcune cose che riguardano soprattutto l'economia globale, insomma, e quello che sta accadendo, insomma. Per esempio, nelle scelte di una multinazionale, il fatto di investire in un paese ovviamente segue tutta una serie di variabili che sono legate ai costi, al fatto che si sviluppi un mercato promettente, insomma, la variabile è un paese democratico, incide o non incide? Ovviamente incide. È una delle cose che prendiamo in considerazione. Guardi, si parla molto male dell'Italia, no? Ci sono valutazioni estremamente negative, è cosa che ho detto anche io nel passato su quanto possa interessare l'Italia un investitore che viene da di fuori. Io stamattina sono andato giù in uno stabilimento che abbiamo in Abruzzo, che condividiamo con la Peugeot Citroen. È uno stabilimento che oggi ha festeggiato, ha festeggiato il giorno della festa della Repubblica, ma l'ha fatto, perché probabilmente è la prima domenica dove non ha lavorato in quattro mesi, perché l'impegno della produzione è enorme. Questo è uno stabilimento che nel 2004, quando sono arrivato, faceva 180 mila veicoli commerciali. Quest'anno chiuderemo l'anno con 280 mila, l'anno prossimo arriverà 300 mila. Avevamo 4 mila dipendenti, oggi non li ho contati tutti perché c'erano più di 40 mila persone nello stabilimento, tra i militati, i parenti, eccetera. In totale abbiamo 7 mila persone sul sito. E questa è una realtà industriale che esiste in Italia, perché abbiamo trovato la base su cui lavorare anche con i nostri, anche con i sindacati. Quindi non è che l'Italia strutturalmente non è capace di fare certe cose. Il problema è che quando se ne parla poi, se ne parla apertamente, si cominciano a manifestare delle posizioni che sono totalmente al di fuori del tipo di considerazione che una multinazionale come la Fiat può tenere in considerazione. E do un esempio. Noi abbiamo appena firmato circa 4 settimane fa un accordo con il Presidente Boris Daric della Repubblica Sarbo. Discussioni sono partite agli inizi, alla fine di aprile, abbiamo concluso l'accordo in tre settimane, sono andato giù a firmare l'accordo. Adesso verrà approvato e varato dal Parlamento Sarbo e noi cominceremo le attività industriali, lo stabilimento di Serbia nel terzo trimestre di quest'anno. Un accordo simile. Noi abbiamo provato per mesi di trovare un accordo sullo stabilimento dei termini medesi in Sicilia. Abbiamo provato con tutti per cercare di trovare una base di comune accordo su cui potenziare lo stabilimento, portarlo dai livelli adesso che abbiamo circa 90.000 vetture a portarlo a 8.200.000. Non siamo riusciti a trovare una base per farlo. Quindi quando il sistema che si mette in gioco e per ragioni istituzionali, per ragioni di potere, per ragioni di ruolo comincia a creare tutti gli ostacoli necessari al raggiungimento di un obiettivo, la multinazionale come la FIA si sposta. Perché il mercato non aspetta che qualcuno decida di condividere certi obiettivi e di creare le condizioni per farlo. Che la FIA l'abbia fatto con la Repubblica Serba, che lo possa fare in Russia, che lo possa fare in qualsiasi altro paese, la realtà c'è ed è sul pezzo. Quindi noi adesso stiamo guardando l'espansione della FIA per quanto riguarda l'auto nel continente nordamericano e le posso garantire che noi abbiamo un gruppo di ingegneri che è corteggiato da tutti, tutti gli stati americani, il governo canadese, il governo mexicano che si è presentato per creare le condizioni di sviluppo dell'industria. Cosa che noi in Italia non facciamo. Cioè la più grande azienda di industria italiana non riesce a trovare un accordo per sviluppare uno stabilimento, lei si può immaginare quale sarebbe il risultato se si presentasse la società straniera per farlo qui. Quindi non ci sono le condizioni. Il grande problema dell'Italia è che bisogna eliminare tutti quegli ostacoli che troviamo tutti i giorni per cercare di crescere. Certo. Le faccio un'altra domanda delicata sul ruolo delle multinazionali che comunque si lega al tema di questa serata. Perché molte multinazionali sono così rigide nell'applicazione di principi etici quando operano sul loro territorio. E così volubili quando agiscono in altri posti. E magari si adattano al costume di quel posto. E quindi questi principi etici sono variabili. E qualche volta abbiamo visto casi di multinazionali con una grande immagine che quando hanno operato su altri mercati, persino su quelli italiani, si sono comportati diversamente. Perché? Non le faccio una domanda indiscreta. Lei ha visto per esempio, non so, il caso Siemens è uno di questi. Il caso Alstom è uno di questi. Me ne assicuro che non abbiamo fatto le stesse cose a casa? Non lo sappiamo. Probabilmente però sono state scoperte in altri paesi. Voglio dire che qualche volta si ha la sensazione che se ci sono delle istituzioni democratiche molto forti, l'azienda si comporta in un certo modo. Laddove in qualche modo ci sono istituzioni più deboli e si devono fare comunque degli affari del giusto che si debbano fare, probabilmente le regole sono un po' più basche. Guardi, forse il problema più grande non è necessariamente i due casi a cui ho fatto riferimento dai. Io non so se avete parlato qui del problema americano del cosiddetto oil for food che è nata come un'analisi tecnicamente che è partita dalle Nazioni Unite che poi è stata abbracciata dal Department of Justice americano che ovviamente si è associata con la Securities and Exchange Commission e quindi hanno cominciato un'analisi piuttosto dettagliata di gente che ha in qualche maniera creato base di commercio con l'Iraq. Quel tipo di intervento che io considero totalmente parziale, che ovviamente è motivato da proprio un impegno politico dall'America verso l'Iraq e che poi abbia delle conseguenze commerciali e anche punitive verso gente che ha intrapreso attività commerciali con i paesi limitrofi. È un problema che io considero una pessima gestione di questo concetto di principi etici universali. Una delle cose, di questo ho avuto esperienza anche prima di venire in Fiat perché gestendo l'Asia Ginevra che ovviamente aveva la capacità assolutamente di trovarsi in situazioni simili, il fatto di amministrare, di gestire l'azienda con questi principi piuttosto chiari a qualsiasi livello di intervento internazionale che possiamo avere è un principio fondamentale. Noi non ci comportiamo in Cina in una maniera diversa di come ci comportiamo in Italia. E ogni volta che si è presentata un'opportunità dove per ragioni locali, istituzionali, ci sono state le richieste di deviare da questi principi che siamo rifiutati di giocare. È molto più semplice, guardi, ve lo posso dire. Questa è un'esperienza mia e non voglio criticare né la Siemens, né la Lasto, perché non sono almeno i dettagli di quell'intervento. E non vorrei universalizzare il problema dicendo che si comportano a casa in una maniera diversa di quando lo fanno. No, no, per carità, naturalmente sono soltanto degli esempi con tutte le garanzie possibili. Parlando della crisi finanziaria che stiamo ancora vivendo, lei richiene che è finita o in qualche modo ne stiamo vedendo soltanto all'inizio? Io ho letto un'intervista del professor Rossi stamattina, mi pare, che ha fatto riferimento a alcuni commenti fatti da George Soros nel passato per quanto riguarda l'esistenza di questi default swaps e la misura di questi contratti. Cerco di spiegare in maniera molto semplice qual è il problema, perlomeno come lo vedo io. Il problema del subprime è un problema che è nato proprio di una carenza strutturale del cosiddetto consumer protection che esiste in America. In effetti tutto il problema è nato da gente che non aveva né i mezzi, né la conoscenza, né la cultura per valutare quello che stavano firmando. Quindi il problema che è stato creato è lo strumento e poi il sistema finanziario americano che in effetti fa questo come mestiere. Ha raggruppato tutti questi pezzi di carta e ha creato una iper realtà che è stata disegnata sulla divisione, la ripartizione di questi pezzi di carta cercando di capire quali elementi del rischio dell'ipoteca originale si poteva vendere a chi. Facendo questo lavoro qua si è creato un grandissimo sistema di distribuzione che ha creato realtà su realtà e quindi questi pezzi di carta sono andati a finire in mano a gente che se l'avessero si è domandato se avevano un'apertura, una cosiddetta exposure al problema americano, ma io assolutamente no. Quindi quando li hanno avvisati poi che in effetti avevano investito in una parte di quel rischio sono rimasti scioccati. Quella gran parte lì del cosiddetto subprime è stato smaltito. È stato smaltito non nel senso che il problema è scomparso, ma credo la maggior parte delle istituzioni finanziarie hanno accusato e registrato il peccato, hanno svalutato le posizioni e sono ritornati ai mercati chiedendo capitale agli azionisti. Quindi io sono vicepresidente dell'OBS, abbiamo un cosiddetto rights offering che è aperto adesso che chiuderà all'inizio di giugno, dove stiamo cercando di riportare dentro oltre 15 miliardi di franchi di capitale, questo dopo aver emesso 13 miliardi a febbraio di quest'anno con queste mandatory convertible notes. Quindi l'OBS da sola ha ricacciato 28 miliardi di franchi, parliamo di circa 18-19 miliardi di euro. E quindi questo processo molto doloroso di risanamento del bilancio delle banche sta andando avanti e la maggior parte di quel risanamento là è stato concluso. Quello che condivido con il professor Rossi è che la realtà finanziaria è molto più complessa del subprime. C'è una realtà che esiste non solo in parallelo, ma che fa parte della realtà finanziaria americana che è stata creata appunto per togliere il rischio associato con delle operazioni lontano da loro e verso un mercato che è molto più aperto. Quindi il fatto di non usare più il bilancio della banca per finanziare lei che vuole fare qualcosa, ormai è diventata un'arte e una scienza per se stessa. Facendo questo si è creata su moltissimi fronti un'attività di creazione di prodotti e di distribuzione di questi prodotti che stanno in mano a tutti. Quindi non so se i 45 trilioni o 45 mila miliardi di dollari di valore sia il numero giusto. Vi posso dire che in tutti questi credit default swaps e qualsiasi tipo di derivato che esiste. Adesso le do un esempio pratico, non perché ha a che fare con l'OVS ma perché sono a conoscenza dei problemi della Bear Stearns. Uno dei grandissimi problemi di un istituto finanziario come la Bear Stearns, se in effetti il lunedì mattina quando è stato annunciato l'accordo con la JP Morgan, invece di annunciare l'accordo, avessero annunciato che sarebbero presentati in tribunale e fare non il chat relevant che è la procedura standard, ma avrebbero fatto il chat relevant perché non c'era niente da riparare ma in quei condizioni là non c'è la possibilità di risanamento. Il primo problema è che per questione di orario il sistema americano avrebbe aperto alle 9 di mattina, lunedì mattina e il mercato di Tokyo avrebbe cominciato a girare a mezzanotte. Quindi ci sarebbero state 9 ore o 8 ore in cui i mercati internazionali giravano senza avere la certezza che un sistema americano avrebbe accettato la richiesta e avrebbe fatto partire tutte le procedure legali necessarie per preservare la proprietà di chi aveva investito in Bear Stearns e tutte le aperture che aveva verso l'altra. Questo tipo di dipendenza internazionale che esiste e i sistemi legali che sono totalmente locali o nazionali sono totalmente sbilanziati. Adesso il grande problema di questo gioco è finanziario che vediamo è che c'è un'attività globale e un sistema di vigilanza e di amministrazione delle leggi che è totalmente locali. E quindi fino a quando questo esiste il rischio inerente nelle operazioni di questo sistema è enorme. I credit default swap si iscrivono con tutti. Bear Stearns avrà scritto milioni di contratti, dico milioni per dire miliardi, non so il numero esatto, con tantissimi altri istituti finanziari che erano considerati a quei tempi persone totalmente affidabili come counterparty risk. E quindi questo problema qua che noi valutiamo anche all'OBS per vedere in effetti se noi firmiamo il contratto con lei come istituto bancario o finanziario, questo è un problema che viene gestito giornalmente. Il momento che parte uno di questi c'è il grandissimo rischio che venga contaminato tutto il sistema finanziario e a quel momento la stabilità di tutto si mette. Quindi un intervento pubblico è stato giustificato, hanno operato bene, il rimedio è stato efficace? Nel caso della JP Morgan non c'è stato un intervento pubblico, c'è stato un intervento di cosiddetto moral suasion che è stato usato nel sistema finanziario per convincere tutte e due le parti di entrare in questa trattativa. È successo nel 1998-99 quando c'è stato il problema di long-term capital dove in effetti la Banca federale americana è entrata e ha costretto le banche americane di assorbire il problema. La differenza è che dieci anni fa il problema era un miliardo di dollari, adesso parliamo di migliaia di miliardi e quindi il fungo esploda, quindi è veramente grande. Adesso non voglio terrorizzare nessuno, semplicemente ricendo che credo che ci servano le regole ben chiare sul tipo di rischio che si può assumere sui bilanci delle banche e che ci sia un livello di trasparenza verso il mercato che è molto molto più dettagliato per quanto riguarda queste posizioni. Uno dei grandissimi delle abitudini nel cosiddetto reporting delle banche è il concetto del netting, il fatto di prendere posizioni in order, di scalare. Quando toglie 100, mi toglie 90 perché c'è una posizione nella direzione apposta. Il numero è 10 e 10 non fa paura. Il problema è che se 100 ce l'ho con lei e 90 ce l'ho con qualcuno che non mi ripaga. Questo è nel caso Societe Generale che è successa una cosa di questo tipo, tra l'altro credo che non abbiano molto rispettato il mercato, nel senso che si sono messi a posto e poi dopo hanno annunciato al mercato. Abbiamo ottime relazioni con Societe Generale dal punto di vista industriale. È una banca che semplicemente per chiarire il cosiddetto record è stata vicina alla Fiat anche nei momenti più duri in cui avevano bisogno di assistenza del sistema finanziario, quindi ringrazio, ringrazio Button e non voglio affatto giudicare il suo comportamento. C'è da dire che in generale, tutto sommato, se le grandi istituzioni non possono fallire ed è giusto che questo sia avvenuto perché erano talmente intracciati i mercati che questo avrebbe creato delle ripercussioni a catena difficili da gestire. Però è anche vero che in qualche modo così si premia anche l'azzardo morale, cioè sul versante dell'industria qualcuno sbaglia poi paga fino in fondo. Su questa finanza qualcuno ha sbagliato ma non ha pagato fino in fondo. Gli azionisti di Bear Stearns hanno pagato, hanno pagato nel senso che le azioni valevano cinque volte quello che poi hanno ottenuto dopo aver rinegoziato il contratto con JP Morgan. Il problema è quando succedono queste cose, poi noi andiamo sempre a cercare le persone responsabili, perché c'è un senso di come la vendetta, non l'abbiamo trovato, l'abbiamo punito. Il sistema finanziario non è tanto facile a trovare la persona che è responsabile. La maggior parte di queste attività, queste attività che hanno creato il problema del subprime in tutti gli istituti americani, quelli finanziari sono stati fatti, se lei prende la UBS, parliamo di 82 mila persone, sarà stato un gruppo di 100 persone che ha creato il marchio ingegno. Quindi quando parliamo di punire, fa parte del mestiere, quindi il grande problema di questa industria è che bisogna trovare delle regole estremamente chiare sul tipo di attività che possiamo permettere che questi istituti finanziari facciano, da una parte, è secondo il massimo tipo di rischio che si possono assumere. Il bilancio della OBS e un multiplo del PIL della Svizzera. Uno per capire il problema, quindi quando lo vediamo in quel contesto là si rende conto che se parte un istituto simile, è capace di distruggere una realtà industriale e finanziaria di un paese. Il gioco è estremamente pericoloso. Non voglio terrorizzare nessuno, gli discorsi fanno paura quando uno li ascolta. Ringrazio, abbiamo in qualche modo così delineato alcuni aspetti della crisi finanziaria e delle sue conseguenze. Volevo chiederle brevemente qualche giudizio sui nuovi attori di questa globalità. Per esempio i fondi sovrani, sempre positivi? Non sempre. Quando non sono positivi? Bisogna analizzarlo caso a caso, bisogna vedere quali sono le motivazioni degli interventi, quali sono i loro obiettivi andando avanti. Ovviamente in questo sistema globale, questa creazione proprio di valori enormi in questi paesi è totalmente aspettata, lo sappiamo. Quindi la capacità di investire, di muoversi, c'è. Bisogna stare estremamente attenti a che cosa apriamo. Ma le piacerebbe un fondo sovrano azionista della Fiat? Non mi dispiacerebbe avere un fondo sovrano, probabilmente lo hai già, non lo so. Del resto i libici quando entrarono a metà degli anni settanta, quello era un fondo sovrano poi alla fine. Non c'ero. I fondi cosiddetti attivisti, cioè che entrano nel capitale di un'azienda e ne contestano la gestione. Sempre positivi? No. In qualche caso, perché non sempre positivi? Sono uno stimolo poi alla fine, oppure inducono a fare... No, se c'è lo stimolo al dibattito non mi dispiace. Io ho sentito tantissimi discorsi nel passato, gente che, la maggior parte di queste persone sono giovani finanziari che sono nati e cresciuti in un sistema molto aperto di analisi, la maggior parte di questi qua sono i cosiddetti analyst, eccetera, che si presentano alla riunione degli azionisti ogni anno e cominciano a leggere quasi testi di finanza dicendo alla gente cosa fare. Questa gente che non ha mai gestito niente in vita loro. Sono peggio gli analisti o i giornalisti? Fino a quando lei è qui sono gli analisti. Il grande problema credo che la gestione di una realtà industriale è molto più complessa. Noi viviamo giornalmente con una pressione enorme dai mercati sulla gestione del futuro dell'auto. E noi riconosciamo, l'abbiamo detto questo apertamente nel passato, che se noi guardiamo proprio strutturalmente il gruppo vediamo che ci sono due elementi grossi. Uno è il cosiddetto capital goods che include i camion, macchine a movimento terra, trattori, motori industriali. E dall'altra parte c'è il mercato dell'auto, incluso i motori, la componentistica di quel settore. Il mercato fino adesso, proprio il mercato in cui c'è concorrenza. Ci sono due mercati che sono completamente diversi e quindi il profilo di rischio e la possibilità di guadagnare nel mercato sono due profili completamente diversi. Quindi un'insistenza fenomenale dei mercati a creare due realtà industriali che poi in effetti possono giocare nel mercato e riflettere attraverso il valore delle azioni quello che è il rischio inerente delle attività. Questo è un discorso che è nato, c'è stato qualche pazzo, l'ha fatto nel 2004 quando la Fiat perdeva un miliardo e 400 milioni all'anno, quindi era completamente inconcepibile parlare di spin off. Adesso che l'auto ha cominciato a guadagnare il discorso ritornato sul tavolo. Questa pressione continua, se è una pressione che invita noi a ragionare sul problema e a cercare di risolverlo, è un discorso ben accettato. Se diventa un discorso che poi costringe l'azienda a implementare certe manovre semplicemente perché va a soddisfare delle richieste che sono perlomeno temporanee dai mercati finanziari, io mi fermo tutto. Il mercato finanziario ha le sue mode, le ho viste, adesso mi sto invecchiando, quindi ne ho viste parecchie, ci sono le cose, negli anni 60 i conglomerati erano le cose più intelligenti che potevano creare, dopo dieci anni sono diventate cose disastrose. Abbiamo esempi di aziende che hanno avuto un successo enorme, se lei vede la General Electric come conglomerato è uno dei successi proprio più grandi e più duraturi che abbiamo avuto nel mercato finanziario. E quindi ogni volta che questo discorso va avanti noi dobbiamo, e ci vogliono ore per continuare a rispondere a questa gente, quindi gli attivisti sì sono benvenuti, accettiamo, però la cosa importante è che sia gente che poi una volta spiegata la realtà dei fatti riescono in effetti a gestire anche la risposta. Nel caso della Fiat ho riconosciuto l'esistenza del problema, ma ho anche spiegato con la gestione del gruppo di oggi. Con il fatto che abbiamo creato queste attività trasversali, noi ci siamo incontrati con alcune delle autorità di Trento prima di venire qui in sala, il centro ricerca Fiat che è qui a Trento è un centro che lavora per tutti i settori della Fiat, c'è una comunanza di tecnologia e di know-how che ormai è diventato fondamentale. Separare quella realtà là per cercare di, che poi io considero elementi essenziali per la competitività del sistema andando avanti. Tagliare quella realtà là adesso, senza avere il sistema che mi dà la continuità di collaborazione attraverso i settori sarebbe una cosa spaventata. E anche i fondi di private equity sono una moda oppure no? Ma io sono una persona sbagliata, non apprezzo il private equity affatto, non mi è mai piaciuto da quando ero giovane. Se lo vorrei dico anche perché, se lo posso sapere. Eh, magari sì, siamo qui. Guardi, private equity, no perché me l'ha accettato così volentieri. No, 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 ero preoccupato del microfono, ma... Guardi, private equity è nata dal concetto del management buyout, del leverage buyout negli anni 70-80. E io mi ricordo i primi che ero nati in America e mi sono fatto una domanda fondamentale, no? Come mai un management buyout funziona quando il management diventa responsabile per il beneficio finanziario dell'attività e non funziona quando la società è pubblica, perché ci sono tutti gli azionisti al di fuori. Questa è una domanda imbarazzante per tutti quelli del private equity. Non c'è dubbio. Quindi se mi trovo la risposta a quella domanda là, poi magari la comincerò ad apprezzare. Beh, perché... Mi sono sempre rifiutato di lavorare. Beh, sì, anche evidentemente, poi c'è anche la possibilità di valorizzare quel gruppo, qualche volta ovviamente svolgono una funzione positiva, ma se la valorizzazione passa attraverso il cosiddetto break up, francamente, forse qualche volta si mette a repentaglio anche una certa storia industriale. Sì, ma io non credo che ci sia una manovra industriale che non può essere fatta nel contesto che non sia private equity. Cioè, se crea valore lo faccio da base, no? Certo, certo. Siete, veniamo un attimo al nostro paese. Perché secondo lei questo paese si vuole così poco bene, ha così poca fiducia in sé e spesse volte dà di sé un'immagine che è largamente inferiore a quello che nella realtà è, non soltanto la Fiat, ma ovviamente tantissime realtà industriali, finanziarie, economiche, civili. È un paese che si sottostima. Perché? Perché credo che le persone che ne parlano negativamente sono gente che vanno trovando spazio per fare cose che non stanno facendo a quel momento lì. Il problema è che c'è una realtà che non è molto piacevole in Italia. Ne abbiamo parlato, infatti, le ho detto prima che per attirare i capitali dall'estero l'Italia proprio non ha le condizioni nemmeno per farlo. Quindi ci sono delle cose così ingessate e incrostate nel sistema che proprio bloccano anche... Ma non solo per ragioni di costo, sono ragioni complessive. No, no, guardi, posso garantire che non è affatto questione di costo. Cioè, dal punto di vista di costo ci sono delle cose su cui bisogna intervenire, ma non è quello il grande problema. Il problema è che è molto difficile fare qualcosa in Italia. Ma su tutto, permessi, creazione di organizzazioni, accordi sindacali. Noi abbiamo cercato, nella ragione del Piemonte, parlo di Torino adesso, di ottenere un accordo sindacale sul lavorare 17 turni, produrre di più, perché stiamo vendendo di più, grazie a Dio. Impossibile. Poi siamo andati a tante chilometri da Torino, a Verone, abbiamo firmato l'accordo con la provincia, la città di Verone, dove in effetti andremo a aumentare il numero degli organici da 400 a 1000 persone. La maggior parte di questi 400 sarà gente che andrà in pensione nei prossimi 4-5 anni, quindi abbiamo creato 1000 posti di lavoro in un campo molto tecnico. e l'abbiamo fatto in questione di 60 giorni. Quindi c'è una realtà che non è affatto uniforme. E questo lo rende il paese non gestibile. Uno che viene da di fuori non sa se andare a Verone o a Torino, perché a Verone magari le cose si fanno, a Torino no. Questo è un paese nel quale contano ancora le relazioni più dei risultati? Non più, non credo. E contano ancora troppo le corporazioni rispetto al mercato aperto? Sì, su questo sì. Il sindacato è utile, inutile o inadeguato? Questa è una domanda estremamente difficile. Le dico, il ruolo del sindacato è utile. La risposta la potrei anche lasciare là. Il problema è che il dialogo, la dialettica tra l'azienda e il sindacato non è il tipo di dialogo che deve andare avanti. Siamo ancora appigliati sugli strumenti che sono così antiquati, nel senso di utilizzo a livello di sviluppo industriale, che non risolviamo assolutamente niente. Stiamo parlando di due mondi diversi. Io parlo di un'azienda che deve creare le condizioni per essere la più competitiva nel mondo e noi stiamo parlando di mantenere una parte di un accordo, questo era raggiunto nel 1993, quando il mercato dell'auto italiano era completamente protetto. Sono due realtà che non coincidono. Quindi o troviamo un'apertura dall'altra parte per dialogare e poi creare le condizioni per lo sviluppo industriale, o se no la Fiat andrà altrove. Perché il mercato c'è, non è soltanto l'Italia che lo fa. Io voglio un grandissimo bene a questo paese, ma gestisco un'azienda che opera in 190 paesi e ha 185 mila dipendenti. Quindi io ho tutto questo problema italiano, lo sento sulla pelle, vivo e cerco di gestirlo nel miglior modo possibile. Ma poi c'è un limite a tutto, c'è un limite proprio di tempo, di impegno che poi ci costringe a noi a fare cose al di fuori. Che io vorrei evitare sinceramente, glielo dico, nelle condizioni da adesso è impossibile. Ma nel sud del nostro paese si può ancora investire? Il governatore parlava del fatto che il sud ha il 60% del reddito del nord. C'è la possibilità di fare bene ancora al sud? Sì, ma da quello che so io, a Tessa, in provincia di Chieti, quindi al sud del Po. Non c'è dubbio. C'è un problema di salari bassi e di redditi inadeguati nel nostro paese, è un problema sociale che le... come si possono aumentare questi salari? Beh, alleggerendo le... proprio l'onere sociale associato con il salario. Se lei vede quello che prende a netto uno dei nostri dipendenti, dopo che noi abbiamo pagato tutto quello che bisognava pagare, è una cosa ridicola. Questo è un salario originale che era X. Non è mai successo. Stavo leggendo una statistica che mi pare che siamo o il paese più basso in Europa o uno dei più bassi. E non è uno scandalo, secondo lei, l'enorme differenza tra il salario di un suo dipendente e la sua retribuzione? La maggior parte della mia retribuzione è totalmente variabile. Quindi se non porto i risultati, becco zero. E sono disposto a giocarmi staccata all'azzardo, nel senso, gestisco l'azienda. Ma se è giusto che ci sia una parte variabile e consistente che premia i risultati, perché quanto i risultati non ci sono, l'azienda perde e il manager non paga? Perché l'accordo non è quello di contribuire al risanamento dell'azienda. Cioè è un contratto di lavoro fondamentalmente. Io la pago tanto. Se ce la fa, la pago X più Y. Se non ce la fa, pago soltanto X. Se non funziona per niente, la mando a casa. Cosa che sono disposti a fare con me. Io sono il più precario della Fiat. Nel senso che è un contratto che può essere determinato dal Consiglio dell'amministrazione quando vuole il Consiglio. Può essere chiuso. Senta, come giudica la governance di una grande società? C'è troppa burocrazia anche nelle aziende? Ci sono troppi comitati, troppe cose? Non è che nelle aziende in qualche modo si rischia di ripetere quello che accade qualche volta nella pubblica amministrazione? C'è visto il sistema, c'è stato un grandissimo lavoro che è stato fatto dopo questi casi eccezionali americani che ha creato la reazione americana totalmente sproporzionata dal Sox. Adesso ritornando al discorso del rischio finanziario. Noi, la Sarbanes-Oxley come struttura legale è applicabile alle realtà industriali come noi, a quelle finanziarie. Legge diciamo che è stata fatta dopo il caso Egon. Tutte le regole, i cosiddetti controlli interni, la certificazione da parte degli auditors dell'esistenza dei sistemi di controllo. Tutte le banche che hanno accusato le perdite su subprime avevano fatto firmare sia dal Chief Executive che dal Chief Financial Officer certificati di assoluta conformità con le richieste, il cosiddetto 404 del Sox, tutti firmati. Tre mesi dopo, 10 miliardi di perdite. Che le dice molto su quanto sia efficace questo sistema che poi viene imposto di governance. Io apprezzo molto più l'approccio inglese che ha guardato al concetto di governance proprio negli elementi non necessariamente di regole ma di esistenza di ruoli nel Consiglio di amministrazione che con degli obiettivi molto specifici. Per esempio il fatto di avere il cosiddetto Lead Independent Director, che è un concetto che non esiste nel sistema italiano, è un concetto che è molto importante, specialmente dove il ruolo di Presidente di Consiglio di amministratore delegato vengono combinato, anche in casi in cui non lo è, il ruolo di questo rappresentante di consiglieri a Stato. Io credo che c'è moltissimo lavoro ancora da fare, ma non credo che stiamo arrivando a un livello di burocrazia in governance che bloccherà un'azienda. Ma la governance duale non è eccessiva per certi versi, non so, sono grandi banche che funzionano una governance duale. No, adesso mi sta cacciando in un altro discorso. Io non sono... No, glielo dico perché non ho il problema che hanno le banche. Cioè questo doppio consiglio che esiste altrove, non ce l'ho io. E consiglieri indipendenti sono utili? Ci sono in Italia o quando ci sono, come direbbe il professor Rossi, sono dei financial gigolo? Questo non l'aveva sentito. No, io faccio parte di un paio di consigli, quindi per definizione non posso definire il mio contributo inutile. Qualcosa cerco di fare in quel contesto. Io credo che aiuti molto, se uno può in effetti prendere l'impegno in una maniera vera, seria, di contribuire al dialogo, che in effetti deve essere un dialogo sullo sviluppo della strategia e sulla scelta dell'amministratore delegato. Queste sono le uniche due cose che può fare un consiglio, il resto non è così distaccato dalla realtà gestionale che non può fare nient'altro. Quindi io continuo a insistere sul fatto che la più grande responsabilità che è il consiglio dell'amministrazione dell'azienda è qua di scegliere l'amministratore delegato. Uno sbaglio fatto a quel livello là distruggere l'amministratore industriale in 12 mesi. Senta, ma gli amministratori delegati italiani fanno troppo ricorso ai consulenti esterni? Fanno troppo? Ricorso ai consulenti esterni. Io le posso dire una cosa che non le uso. Ah bene, grazie. E questo non per scorreggiare i giovani di andare a queste istituzioni che sono globali e che hanno grandissime capacità. Io non ho mai, le ho provato a usare nel passato. In alcuni casi ho trovato su campi molto specifici e su punti che magari non conoscevamo, delle conoscenze del mestiere che non erano nostre. Quindi su quello l'apprezzo. Sulla gestione dell'azienda, anche dal punto di vista organizzativo, mi rifiuto di ascoltare. Qual è il metodo Fiat per scoprire i talenti e valorizzarli in azienda? Il metodo Fiat? Guardi, io adesso lo posso dire perché ormai il grande problema della gestione dell'incubo che abbiamo ereditato nel 2004 passato. Ma metà del mio tempo è totalmente dedicato allo sviluppo e al processo di identificare i talenti nell'organizzazione. Quindi è un dialogo continuo con giovani e non giovani, non importa, con la struttura dei dirigenti del gruppo per cercare di identificare questa gente e creargli le condizioni per crescere e sviluppare. Noi abbiamo dei valori molto chiari su cosa significa essere un leader. Li ho portati con me quando sono arrivato nel 2004, ci ho lavorato per dieci anni interi, li ho raffinati, alcuni erano completamente sbagliati, ho imparato, ho cambiato con altri, ma la struttura è rimasta quella che è. Quindi il fatto di cercare in questi dirigenti la capacità di guidare le persone, di guidare il cambiamento sono due colonne fondamentali. Poi come ne andiamo a declinare in attributi particolari dipende dalla... Ma qual è la qualità che lei richiede in un giovane al di là del suo livello di preparazione scolastica? Guardi, una delle cose che ho detto, mi hanno dato questa laurea a Onoris Causa martedì, credo, a Torino, e sono diventato ingegnere, quindi non mi sento totalmente meno amato in un ambiente come la Fiat. Prima la guardavano con sospetto. Ma in realtà lo fanno ancora. Non credo che abbia guadagnato molto, in tutti i modi, per lo meno su carta, posso dire che lo so. Il grande problema è che quando si esce da queste politecniche università, uno esce con la certezza di sapere un mestiere, una professione. e quindi quando si entra poi nel mondo del lavoro, è come se uno diceva, ho imparato tutto quello che dovevo imparare, datemi la materia da gestire e vi faccio il compito. Vi faccio la tesi, l'esame. La realtà è che quando finisce un ingegnere a fare quello che deve fare il politecnico e me lo prendo io nella Fiat, il mondo che gli chiedo di gestire è un mondo completamente diverso da quello in cui si è preparato lui. Per le condizioni della concorrenza, quello che diventa importante in quel momento sono cose che non poteva prevedere né lui né il politecnico. Quindi lui ha una serie di armi, di cose necessarie per competere ma non ha la capacità di farle. Quindi dovrò venire totalmente con un'apertura mentale che dice, io ho il necessario per fare quello che devo fare, il resto lascio all'azienda. Gli dobbiamo aprire il mondo. Molti di questi giovani vengono con l'idea di sapere già tutto. Chiedo che un senso di umiltà in cura che non stanno aiuterebbe. Io ero così quando avevo 30 anni, quindi non do colpa a nessuno, anzi probabilmente ero peggio. Ma se lei dovesse tornare a studiare, che cosa studierebbe e dove studierebbe? Fisica teorica. Dove? Probabilmente in Inghilterra. Perché mi piace la pioggia, ma solo questa zona qua. E se fosse un imprenditore dove investirebbe? Avesse la libertà di scegliere il posto più promettente, quello che lei ritiene essere l'Eldorado del futuro, dove andrebbe? Torino. Torino. No, però non lo so. Devi parlare di geografia di investimenti. Sì, geografia di investimenti. Cioè i luoghi che lei ritiene possono rappresentare, luoghi e settori che lei ritiene possono rappresentare il futuro. Beh, dal punto di vista geografico non avrei il minimo dubbio che se avessi le competenze per gestire la realtà andrà in Russia. Più della Cina? Molto più della Cina. Perché? Perché la Cina si sta creando le stesse condizioni di burocrazia che renderà il paese totalmente ingestibile. Cioè per ottenere l'approvazione di qualsiasi joint venture in Cina, stiamo parlando di processi che probabilmente vanno oltre quelli previsti da termini di Berese. quindi abbiamo trovato perlomeno un paese che a livello di collaborazione internazionale è un incubo. E per quanto riguarda il tipo di attività, di sicuro non quello finanziario. Ma c'è troppa, perché c'è troppa finanza, cioè l'errore che abbiamo fatto in questi anni è una finanza che ha pensato solo a se stesse, abbiamo dimenticato l'industria. No, io credo che la finanza ha assunto un ruolo nella società che è totalmente sproporzionato con le capacità di comprensione e di gestione di quella realtà. È tutto semplice. Noi abbiamo banchieri, questo non parlo dei nostri italiani. No, per carità, non avevo il minimo dubbio. Noi abbiamo banchieri nel sistema globale che hanno assunto posizioni, hanno detto delle cose, hanno espresso opinioni, si sono schierati contro o in favore di alcuni casi senza avere la minima idea di quello che dicevano. Proprio zero. Magari stavano giocando a bridge, no? No, il problema è che il sistema, a parte il fatto che la questione di compensi in quale ambiente è qualcosa che ha raggiunto i livelli astronomici. Quindi io quando uno, mi pare che il salario di uno ha arrivato a 80-100 milioni all'anno, è un numero che non capisco. Lo capisco numericamente, non lo capisco come compenso quello che ha fatto qualcuno. Noi abbiamo banchieri negli scorsi dieci anni che hanno guadagnato tanto. Poi è un sistema che paga e paga bene. E quindi associato con questo benessere economico viene l'assunzione che il benessere è identico a una capacità di vedere le cose o al di fuori di quello che non è capace di fare. Quindi sono estremamente, è gente a cui io non credo dal punto di vista industriale. Vi apprezzo per il loro ruolo finanziario che hanno per aiutare le aziende, ma credo che bisogna essere estremamente attenti a non usarli per qualcos'altro. Poi hanno giocato un ruolo, se lui parla della Fiat, hanno giocato un ruolo di estrema importanza nella sopravvivenza della Fiat che convertendo, senza il convertendo, la Fiat non ci sarebbe qui oggi, no? Certo, certo. Secondo lei è giusto che si impegnino direttamente anche in Alitalia, per esempio, come hanno fatto? Guardi, Alitalia è un caso tutto particolare. Molto particolare. No, guardi, lei mi dica perché è l'unica società europea che non guadagna. C'è una domanda fondamentale, no? Perché poi il resto ce l'andiamo a domandare altrove. Perché non guadagna l'unica in Europa? Cioè avere questo pregio in casa non è una cosa che accorgiamo. ci avviamo verso la conclusione del nostro incontro. Le volevo chiedere, generalmente in azienda si fanno delle previsioni su dove andrà il dollaro, dove andrà il petrolio, come saranno i mercati nei prossimi mesi. Lei è tra quelli che si aspettano un petrolio che non si ferma più, che arriva a 200 oppure no? Io credo che ci sia il potenziale che il petrolio arriva a 200. E lei è tra quelli che pensano che il ribasso del dollaro sia pressoché terminato oppure no? Io credo che stiamo arrivando ai limiti del possibile con il dollaro. Questo non significa che non meriti un valore più basso. È solo merita di sicuro, perché è stata l'amministrazione negli scorsi sette o otto anni che veramente non dà testo di economia pura. Certo, assolutamente. Proprio criminale. Senta, e tutta questa grande corsa ai biocarburanti che è essenziale, ma non ha poi fatto salire i prezzi delle materie prime agricole, quindi ha famato una parte... Sì, guardi, io ero giù in Brasile agli inizi di dicembre, ho avuto un incontro con il presidente Lula. Lula è una delle persone che ha preso questo impegno per quanto riguarda lo sviluppo dei biocarburanti e ha incoraggiato lo sviluppo del piattagione di canale da zucchero in Brasile. E considera che quello sia anche il metodo per aiutare i paesi africani a cercare di trovare una soluzione della condizione economica in cui si trova. È una posizione che io tra i paesi condivido. L'uso indiscriminato di materiale per produrre biocarburanti per me è folle. Quindi cercare di usare cose che poi possono essere usate per sfarmare il mondo è una cosa un po' insensate. La cosa importante è scegliere quali prodotti usare per farlo. Vedere il bilancio energetico, quanto si... e soprattutto poi l'impatto sui mercati e ci sono dei prodotti che hanno un risultato positivo in quell'analisi. Quindi non è un... rispetto per esempio al mais. Sì. È la grande celebre del Brasile. Il Brasile è l'unico di quei paesi che è capace di fare tre raccolte all'anno di canale da zucchero. Per ragioni proprio di clima. Quindi è una grandissima macchina produttrice di biocarburanti. E' quel tipo di sviluppo che deve essere incoraggiato. Senta, quale sarà il futuro dell'auto? Avremo un'auto a idrogeno o più un'auto elettrica o più un'auto ibrida? Tra dieci anni cosa succede? Ibrida. Dieci anni ibrida. Trent'anni probabilmente idrogeno. Non la mia rivedere. Ma perché sull'idrogeno è così... Perché non ci sono... Il discorso energetico non è stato ancora analizzato bene. Cioè quanto entra e quanto esce se risparmiamo niente. Secondo le condizioni, l'infrastruttura necessaria per distribuire e creare le condizioni per l'idrogeno non ci sono. Adesso. E quindi un paese come il nostro che non è capace nemmeno a creare una rete di distribuzione di metano che è uno dei carburanti più efficienti che abbiamo, in cui tra parentesi la Fiat siete il leader mondiale e me lo riusciamo a... Ho un passato. Cerco di vendere macchine, ho un taccuino fuori, prendo ordini per camion, tutto. La cosa importante è vedere in quale tempo si possono fare queste cose. Quindi cercare di sognare soluzioni che magari avverranno fa trent'anni. Noi abbiamo un problema oggi di CO2 che non è soltanto un problema europeo ma è un problema mondiale. Io sono andato in Cina 6-7 mesi fa, non mi ricordo nemmeno, ed ero là a trovare il vicepremier del cinese e sono andato nella cosiddetta Forbidden City, dove ci sono tutti i funzionari del governo. Era una giornata un po' scura, c'era un cielo veramente proprio grigio. E ho domandato il nostro interprete cinese perché era così, mi ha detto guardi, diceva che è la nebbia, ma non è la nebbia. E quindi stiamo creando dei livelli di inquinamento dell'atmosfera che se continuiamo a andare a questo ritmo qua andremo a ammazzare il pianeta. E non è l'auto soltanto che crea, che è parte del problema. Fino a quando continuiamo a bruciare carbone, come lo stiamo facendo in grande parte del mondo, il problema non se ne andrà. Quindi credo ci sia un intervento proprio importante. Su questione del CO2, la Fiat adesso, queste sono statistiche che sono pubbliche, a livello europeo è l'azienda più pulita, tra parentesi, tra virgolette. Ed è un impegno che abbiamo preso nel 2004, quando abbiamo cominciato questa attività di risanamento, ed è un impegno che non andremo a mollare. Saremmo così nel 2012, come lo saremmo nel 2020. Quindi tutte le tecnologie necessarie per salvaguardare il posizionamento le metteremo in alto. Ci avviamo alla conclusione. Ma la BMW ibrida in Formula 1 deve preoccupare Montezemolo? No. Io mi fermerei alla BMW. Ah, senza ibrida. No, con o senza. Sì, con o senza. Perfetto, perfetto. Questo è un po' di orgoglio nazionale, ci vuole, no? Sente, ma ci sarà poi, non ridete, perché c'è un progetto serio su questo, l'auto che vola ci sarà? Non ne ho niente idea. C'è questo progetto israeliano, in cui tra l'altro è investito anche De Benedetti su questa avveniristica auto. In tempo, nel futuro probabilmente sì. O perlomeno ho visto un paio di film che ce l'avevano. Senti, qual era l'auto simbolo di quando lei era giovane? Anzi, più giovane, mi scusi. No, giovane. L'auto simbolo. Sì, l'auto che le piaceva di più. Può anche non essere una Fiat, eh? Beh, la macchina che mi piaceva molto era la Jaguar XKE. E infatti è una delle macchine più belle che cosa non stava mai fatta. E l'ho avuta una, da studente. Ho comprato un Catorcio che aveva dieci anni. Ho speso tutti i soldi che avevo per rimetterla su e non è mai partita. Per questo bisognava dirlo in fine, perché se no era uno spot per la Jaguar. Senta, è un libro che consiglierebbe di leggere dopo questo bel festival di Trento che in qualche modo ha così segnato i suoi anni migliori, che lei consiglierebbe di leggere ai suoi amici, ai suoi figli, insomma. Che libro consiglierebbe? Su qualsiasi cosa. Massima libertà di risposta. Probabilmente la morte di Ivan Ilec, di Tolstoi. Ma questo è un peccato. Grazie. E siamo quasi alla fine, però qualche curiosità personale ce la togliamo. Può anche non rispondere, naturalmente. Invece il film che l'ha segnata di più, che l'ha colpita di più, che in qualche modo l'ha accompagnata come film di formazione, insomma. O anche uno recente, insomma. Zeta. Non so come si chiama. Zeta, Zeta. Di questa grazia, sì. Senta, siccome è un appassionato di musica, e qui finiamo su questo, Allora, mi dice nella playlist del suo iPod, qual è la canzone preferita di questo momento. La favorita. Beh, una delle favorite, sì. La più buona di McFerrin. Eh. Ma non perché ascolto anche altre cose, ma l'ho scoperto di recente. Un pezzo non l'avevo mai sentito. Non mi ricordo nemmeno come si chiama, mi pare il Circle Song. non ne conosco. Perfetto. Allora, noi, su queste note, che tra l'altro sono anche molto belle, terminiamo questo nostro incontro con Sergio Marchionne, che ringraziamo per quello che ci ha detto, per la sincerità, per la spontaneità con cui ha parlato con noi. Naturalmente lo aspettiamo il prossimo anno, la quarta edizione del Festival dell'Economia di Trento. Ma vengo, mi fiede l'allana, no prossimo. Sì, ma poi la chiamiamo. Sì, ma poi la chiamiamo, la chiamiamo e la facciamo salire. Grazie a tutti, buonasera. Grazie.